Buongiorno, benvenuti a questa serie di oggi 24 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Oggi il presidente della Confindustria Bonomi, poi lo leggeremo bene, ci racconta noi siamo qui a viale dell'astronomia a lavorare, la politica non sta facendo nulla. In realtà quello che sta succedendo è che gli italiani hanno viaggiato, come dice qualche giornale 20 milioni di persone si sono mosse ovviamente in Italia, una piccola porzione invece si è mosse e andata all'estero e questi 20 milioni sono i colpevoli del nuovo virus perché siamo saliti a 1479 casi. Buongiorno Roberto, ciao Carla. Questi 1479 casi però i giornali cercano di non dire esattamente che sono pari a 90% di persone che non si ammalano, nulla non si ammalano. Vi leggo il titolo di Repubblica di oggi. Nuovi contagi, la metà si è ammalata in vacanza, non si è ammalata. Oggi il titolo di Repubblica è una fake news perché nuovi contagi, perfetto. La metà si è ammalata in vacanza, non è vero, è semplicemente falso perché i positivi non si ammalano per il 90%. Quando uno si ammala ha la febbre, ha qualche sintomo, talvolta va in ospedale, pochissimi vanno in ospedale per la verità. Perché poi l'altra cosa incredibile è che si fa il paragone sui contagi di oggi rispetto a quelli del 4 maggio con il piccolo problema che all'epoca del 4 maggio c'erano 1479 persone in terapia intensiva. oggi ce ne sono 69. Allora si possono paragonare i contagi dell'epoca con i contagi di oggi? Assolutamente no. Qualche virologo lo continua a dire disperatamente, ma i giornali continuano. Nuovi contagi, la metà si ammala in vacanza, non si ammalano, non sono ammalati. È bene essere contagiati? Non lo so. Certo è male ammalarsi, non essere contagiati. Comunque non c'è verso. Oggi la cosa più significativa del giornale unico del virus è l'intervista a Ranieri Guerra. Voi dovete sapere, ma chi è Ranieri Guerra? Chi è? Boh, Ranieri Guerra, uno dice, ma chi è? Ve lo dico io chi è. Fa parte di quella prestigiosa organizzazione internazionale che si chiama l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quella che non ha capito nulla, nulla, della pandemia. Nulla. Condotta da un etiope, mi sembra, il suo presidente, del suo segretario generale, che è andato a inginocchiarsi alla corte di Xi Jinping dicendo che la Cina stava comportandosi magnificamente. La Cina! Il paese dal cui è nato il virus e grazie al quale noi abbiamo perso giorni importanti per capirne le cure e le sintomatologie. Bene, l'OMS, sapete che cosa ci dice oggi? Prima pagina del messaggero? In realtà è a rischio perché si fanno, si hanno poche sanzioni. Cioè il consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che dobbiamo dare più sanzioni agli italiani. Ma questo, ma come si permette? Ma chi l'ha stabilito che un funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità venga qua e dica dovete essere più cattivi, dovete arrestarli, dovete mettere delle multe? Che facciamo? Mettiamo le multe ai ragazzini che vanno in Sardegna? No, perché questo è il principio. Allora sapete che facciamo? Richiudiamo tutti a casa. Se non richiudiamo tutti a casa, facciamo come Mantovani, oggi intervistato l'illustre, uno dei pochi scienziati illustri italiani che si occupa del virus e che dice che in realtà la malottia oggi, essendo sui trentenni, è sintomatica e meno grave, Mantovani dove era? In Grecia. Allora Mantovani può essere intervistato dal Corriere della Sera in Grecia, ma tu se sei uno sfigato e vai in Grecia, ti facciamo un mazzo così. Se non metti la mascherina ti facciamo un mazzo, ti arrestiamo, arrestiamo tutti. Poi dobbiamo capire come fare. Perché? Come dobbiamo capire e come fare. Voi direte che stai dicendo? Sto dicendo perché oggi Musumeci, che è l'altro grande tema di giornata, il presidente della regione Sicilia, non ce la va più. E sapete perché? Perché dice scusate mi avete arrestato, avete messo in gli hotspot tutti questi immigrati, sono tutti, gran parte sono positivi, non ammalati, ma positivi. Tra l'altro Musumeci, a differenza mia, è molto più, come possiamo dirvi, drammatizza la malattia, ma dal suo punto di vista è abbastanza comprensibile. Scoppiamo di immigrati positivi, ce li fate venire in Sicilia e questi scappano dalla Sicilia e ci creano una tensione sociale mostruosa, dice Musumeci. E qui il ministro degli interni dice tu non puoi permettere di dire che se ne vadano via da quegli hotspot e vadano da altre parti perché è una competenza nazionale. Devo dire che io con la romorgese da questo punto di vista, che la politica immigratoria non la facciano né le ONG né i presidenti della regione sono abbastanza d'accordo, però toc toc! Ve lo ricordate poche settimane fa tutta la polemica sulla questione della zona rossa che volevano fare Gallera e Fontana in Lombardia e che non gli hanno fatto fare e dicevano che la zona rossa è la competenza nazionale, mentre tutti i giornali dicevano Gallera e Fontana sono loro che non hanno voluto la zona rossa. Beh, quando questo qui, il presidente della regione, dice non voglio gli immigrati negli hotspot perché stanno diventando tantissimi, gli dicono non è tua competenza e secondo voi è competenza di uno di fare la zona rossa? È esattamente quello che è successo sul presidente PD delle Marche che aveva chiuso le scuole due giorni prima che facessero il lockdown. Sapete che fece il governo all'epoca? Disse tu non puoi chiudere le scuole, questa è la grande gigantesca ipocrisia di un governo che è del tutto incapace ad affrontare un'emergenza se non a spiegare agli altri cosa devono fare. Tra l'altro nell'intervista di Ranieri Guerra, quello dell'OMS che vuole più sanzioni, il tosto Guerra che vuole più sanzioni sugli italiani, frustata di questi italiani cattivoni, bene, è quello che inizia l'intervista, non dirò mai, ve l'avevo detto sul fatto che sarebbero aumentati i contagi. Lui dice non ve lo dirò mai, ve l'avevo detto, cioè usando quella figura retorica ipocrita in cui vuole dire qualcosa ma finge di non dirla per dire esattamente quella cosa che non vuole dire, cioè avevo ragione io, non so se avete capito la follia di Ranieri Guerra ma noi ce li dobbiamo tenere. Favoloso oggi il fondo di Feltri che prende spunto dal libro di Lenzi in cui dice il virus pompa madornale di paura popolare grazie alla quale il governo ha poteri e sta esigendo poteri esagerati. In queste cinque righe che raccontano il libro di Lenzi ma la pura verità e cioè che il governo grazie a questa emergenza può fare come cavolo gli pare. Vi ricordate la questione tra l'altro oggi Mantovani ne parla in maniera scettica nella sua intervista sul Corriere della Sera ma oggi su Wall Street Journal, la prima pagina del giornale finanziario americano, c'è un articolo piuttosto interessante che vi consiglio di vedere, cioè come siamo sul livello delle cure. Due sole cure sperimentali sono state autorizzate dalla Federal and Drug Administration, cioè coloro che si occupano delle medicine e dell'autorizzazione delle medicine in America. Uno è questo Remdesivir che è un antivirale che si sta adottando nei casi gravi in America e in tutto il mondo e il secondo, dice Wall Street Journal, è la cura al plasma, cioè quella che noi abbiamo sfanculizzato quando riguardava un istituto del nord Italia e che veniva considerato un... questa roba del plasma veniva considerata una cosa da Cialtroni perché non faceva parte della linea Burioni di quelli là, ve li ricordate? Quelli che era meglio che stessero un pochino zittini invece hanno parlato per tutti quanti. Secondo tema grande di giornata è questa alleanza PD Movimento 5 Stelle perché qui ogni giorno nel chiacchiericcio della politica evidentemente si parla dell'alleanza che Conte sul fatto ha detto doveva affinire anche alle regionali. Ovviamente Marche e Puglia non hanno sentito il Presidente del Consiglio che per la verità non si capisce a che titolo parli di un'alleanza visto che dice di non essere alleato, di non essere iscritto a nessuno dei partiti. Oggi Mieli fa una pagina intera per dirci che allearsi non è un gioco da ragazzi, ve la potete risparmiare ovviamente. Interessante invece il fatto che i grillini vogliono fare il culo a Davide Casaleggio e il motivo qual è? Che il fondatore dell'associazione Movimento 5 Stelle, nata nel 2017 dove c'è Garante Assoluto Grillo e c'è Di Maio, i grillini gli dicono che non sia il suo ruolo e dicono alcuni di questi, tipo Trizzino che è un signore che vorrebbe l'alleanza col PD, non riesco a capire per quale motivo ad esempio io debba dare dei soldi a questi qua. A me mi fa impazzire perché questa roba la dicevamo tutti quanti noi che ci sembrava un po' strano questo partito che avesse un'associazione privata, Russo, quello che voleva dire. A me poi me ne fregheva anche relativamente poco, vi dico la verità, i partiti si muovono come gli pare, con le strutture che gli pare. Ma oggi i grillini che sono nati grazie a Russo e Casaleggio e ci hanno fatto una testa di così sulla democrazia diretta, oggi ci vogliono spiegare che la democrazia diretta è una minchiata, Russo è una minchiata e Casaleggio è, chi cavolo è Casaleggio? E' uno che passava lì per caso. Ma io ero stupenda, tra un po' ci spiegavano che anche Grillo era uno che passava lì per caso e lì inizio a godere come un riccio. Quindi loro dicono che non devono più restituire soldi, dicono che il secondo mandato non è più imperativo, che la mancanza di alleanze con il PD non è scritta da nessuna parte e che Financo, la piattaforma Russo, ma chi se la fila? Beh, è stupendo, ditelo che volete fare quello che scrive oggi Patuanelli sul fatto, tra l'altro uno dei ministri forse migliori di questo governo, sul fatto il ministro Patuanelli dice la seguente frase, leggetela bene, bisogna costruire un campo progressista e riformista. Beh, per parlare così non dico che ce parla Amoretti, ma costruire un campo progressista e riformista. La parola campo, progressista e riformista fa parte di quel gergo tipico degli zingarettiani dei salotti, bene, radical, chic di Roma. Sentire un grillino che parla di campo progressista e riformista mi fa venire veramente non i brividi, mi fa sembrare a Badantuono quando dice eccezionale, veramente, campo progressista e riformista straordinario. Bene, la destra nel frattempo è un po' sbertucciata perché mancava un po' di attacchi a destra, il mondo conservatore, fascista, prima e Doroteo dopo lo pensa e lo racconta Bonomi e scusatemi Mauro, mentre invece l'intervista di Bonomi oggi presidente della Confindustria sulla stampa è micidiale. Il patto per l'Italia, che è un titolo del cavolo che non vuol dire niente, o crisi irreversibile, insomma non vuol dire niente il titolo, però accusa la politica e tridico, cioè ci va diretto di una cultura anti-industriale. Su questo è difficile dare torto al presidente della Confindustria e poi sfotte i politici che non stanno lavorando e non stanno facendo nulla con questa specie di tutto fermo, 400 decreti attuativi che non sono stati ancora fatti, insomma tutta una serie di battute molto interessanti di Bonomi che poi vengono ribaltate da un punto di vista contenutistico sul Sole 24 Ore, peraltro giornale sempre di Bonomi che dice giustamente, sono, pensate un po' voi, 37 sussidui si sono inventati con il decreto di agosto per 13 miliardi, cioè il paese in cui tutti hanno un piccolo sussidio, anche le cosiddette tax expenditure che dovevano sfoltire le hanno aumentate di 11 unità. Bello Cassese, sentito da Senaldi oggi, l'uomo, il giurista, quello che per primo disse che il decreto di emergenza serviva a poco e poi un'altra questione perché l'ultima chicca ve la do tra poco perché era più bella di tutti quanti, però ve la do tra poco, un'altra grande oggi ritorna su Pittella, da otto mesi in carcere, Iuri Maria Prado sul libro in cui dice una delle aggravanti per cui questo in carcere da otto mesi arrestato prima del processo è perché l'aggravante è che essendo un avvocato e un massone potrebbe inquinare le prove, è una cosa fantastica, quindi un aggravante è essere avvocati e massoni. Massoni si può essere legalmente, avvocati mi sembra di no perché effettivamente mi sembra piuttosto irregolare essere un avvocato oggi in Italia. Ma l'ultima grande storia ve la devo raccontare ma non ve la racconto bene quanto sarebbe sufficiente raccontarvela bene, cioè le sardine! questo, questi, vabbè non mi fate dire cosa sono, si fa, questo santori, il capo delle santine si fa prendere a di spalle che vede un orizzonte con dietro c'è un, come si dice, un arcobaleno, porco Giuda, sembrava di essere il messia, questo si sente a 30 anni messia, sognatore, vulcano di idee, sostanzialmente si fa l'autobiografia aggeografica, cioè le sardine a 30 anni, ma chi cazzo sono, si fanno l'autobiografia aggeografica del loro liderino, quello che diceva Porro, chiedimi scusa, no io non chiedo scusa a nessuno ma perché non ho mai detto nulla, ma sei tu che devi chiedere scusa al mondo intero, uno che si fa a 30 anni per aver combinato zero nella vita, si fa prendere con un arcobaleno come se fosse il messia e si fa scrivere questa autobiografia in cui dice che è un consugnatore, vulcano di idee, una vita vagabonda caratterizzata da vere e proprie emigrazioni, ma questi si sono fumati veramente, cioè devono cambiare pusher, tornato a Bologna continua a viaggiare con la mente, porco Giudeo che lo torna a Bologna e continua a viaggiare con la mente, da mesi vivo il peso di una responsabilità enorme, ma questi veramente, ma non bimbi minchia, ma questi ma veramente, ricercare, ma aspettate scusatemi, lui che cos'è? È un ricercatore ma anche insegnante di frisbee, ragazzi giuro l'ha scritto lui, ma questi veramente, no veramente io non lo so, voi dovete fare una cosa, voi dovete leggervi l'autobiografia delle sardine perché se qualcuno, qualche cazzone che sente la zuppa per un solo istante ha pensato che questi fossero, no, dei ragazzi con qualche senso, pensa a uno che si fa scrivere, ricercatore che lavora per Prodi e i suoi amichetti là nel giornale dell'energia e anche insegnante di frisbee, 33 anni, meritocrazia, questa è l'Italia che vogliamo, quello delle sardine. Bene, la zuppa di oggi si conclude, sito nicolaporro.it per tutto il resto di informazioni, ciao.